Francesco Casorati è un pittore torinese che da tempo ha scelto la Galleria Cuneese Schema 5 per esporre le sue opere. L'ultima mostra è stata intitolata Jeu d'Esprit dalla curatrice ed ex insegnante di storia dell'arte al Liceo Artistico Ego Bianchi Ida Isoardi ed è dedicata al mare. E per l'artista una passione insieme a quella della pittura che viene da lui così ben rappresentata nelle sue opere, una cosa che da un lato può anche essere inquietante come nei quadri in cui il mare appare scosceso, rotte di collisione eccetera, in altri dove invece il mare è veramente il miracolo, è la vita stessa. Nato a Torino nel 1934 ha iniziato ad esporre nel 1954 con la mostra personale alla Galleria del Sole a Milano. Oltre ad aver vissuto nella città Sabauda ha trascorso diversi anni a Parigi, Roma ed è stato anche insegnante di decorazione all'Accademia Albertina della stessa città di Torino. Un vero maestro conosciuto un po' da tutti, da Torino ma anche in ambito molto più ampio per la sua straordinaria capacità di raccontarci un mondo da un lato giocoso, dall'altro molto costruito, molto preciso sul piano del metodo operativo. E al tempo stesso è una persona così mite, così affabile che poi viene rispecchiato tutto questo nella sua pittura. Una carriera quella di Casorati certamente brillante che ha però conosciuto notevoli difficoltà dovute soprattutto alla fama del padre. Nella sua biografia dice che lui è nato in una situazione in cui c'era da affrancarsi in fondo perché non voleva giustamente essere conosciuto come figlio di. Ma mi pare che questo sia stato ormai completamente raggiunto ma non da oggi, già da parecchio tempo.